Siamo qui oggi per inaugurare un nuovo tassello per portare la Valpo Schiavo verso l'e-mobilità. È un nuovo tipo di ricaricatore elettrico che si trova alla Garage Battaglia. Il dettaglio importante di questo ricaricatore è il fatto che la corrente che viene erogata qui è corrente acqua 2O, che vuol dire corrente certificato 100% Valpo Schiavo prodotto con acqua della Valpo Schiavo. Magari Nicola Frigerio ci può spiegare di più tecnicamente che cosa cambia tra questo ricaricatore in fronte a quelli che abbiamo già messo 2-3 anni fa. Buongiorno a tutti, oggi inauguriamo la nostra nuova colonnina di ricarica corrente continua. Rispetto alla colonnina che avevamo in precedenza, questa nuova stazione ci permette di caricare molto più velocemente tramite l'utilizzo della corrente continua. Quindi, vedete sulla stazione, ci sono a disposizione tre tipi di prese. Quello più utilizzato è quello centrale. È una presa che consente di erogare fino a 50 kilowatt di corrente su 400 volt. E serve per poter caricare in maniera molto più veloce le vetture che circolano sulle strade. Molto veloce cosa vuol dire? Una vettura che si arriva da noi con il 10% di batteria, deve aspettarsi che in 20-30 minuti arriva al 50-60%. Repower è molto orgoglioso di aver contribuito a fornire questa prima ricarica di stazione di ricarica veloce in Valproschiavo, al Garage per Taglia. Per noi è molto interessante questo ciclo attorno alla mobilità elettrica che si sta creando con una densità di stazione di ricarica interessante. Siamo a oltre 10 adesso. Abbiamo una e-lounge in Piazza di Postchiavo per le bici elettriche. Abbiamo inaugurato un anno fa il bus elettrico per le scuole, il Primo in Svizzera. Al Porto c'è stata l'elettrificazione del Porto e quindi è tutta una valle che va nella stessa direzione e questo è anche grazie alla collaborazione che abbiamo trovato con istituzioni e privati. Perfetto.